Balzo in avanti dei ricoveri in Abruzzo che passano dai 619 di ieri ai 642 di oggi a preoccupare maggiormente il tasso d'occupazione delle terapie intensive al 40% a quota 75, molto vicina al numero di 77, picco massimo di fine novembre dunque ben oltre la soglia d'allerta fissata al 30%. In area medica ci sono 567 pazienti, cioè 21 in più rispetto a ieri ma in questo caso il tasso d'occupazione resta poco sotto la soglia al 38% a fronte di un livello di allerta fissato al 40%. I decessi delle ultime ore sono due ma sono in aumento tutti gli altri indicatori a partire dagli attualmente positivi e dai nuovi contagiati più 387 a fronte di oltre 8800 tamponi fra rapidi e molecolari. Resta difficile la situazione al Covid Hospital di Pescara al completo per cui è stato necessario riconvertire altre aree del monoblocco principale del nosocomio del capologo adriatico. Decine i pazienti già trasferiti in altri ospedali, soprattutto all'Aquila. Nel frattempo la procura di Pescara sta indagando sulla crescita esponenziale dei contagi nelle ultime settimane nell'area metropolitana. Per due giorni i carabinieri del NAS sono stati in regione a pescare all'Aquila, alla ASL e in ospedale per acquisire i verbali delle riunioni delle unità di crisi, gli atti relativi all'emergenza e i dati sui contagi. Il reato ipotizzato sarebbe quello di omissione dati d'ufficio.